Allora, innanzitutto complimenti, hai debuttato bene, personalità, coraggio, una partita molto positiva da parte tua, da parte di tutta la squadra, spiegami come hai fatto, che sensazioni stai provando adesso dopo le grandi emozioni, immagino, di questo esordio. Fa piacere, non può che far piacere, perché personalmente penso di non aver fatto male, ma soprattutto sono contento perché tutta la squadra ha fatto bene e perché abbiamo ottenuto un bel traguardo oggi. Senti, appunto ribadisco, grandi emozioni, immagino, però insomma l'hai vissuta bene, l'hai vissuta con la giusta carica, ti abbiamo visto sicurissimo in ogni occasione, non hai avuto tantissimo lavoro da svolgere, però quello che dovevi fare l'hai fatto bene. Sì, perché credo molto nel lavoro, credo molto nella professionalità e quando ti alleni bene poi i risultati si vedono, ma ripeto, non sono io, siamo tutti, perché tutti ci alleniamo sempre bene, ci alleniamo sempre forte, siamo tutti professionali e quindi oggi si è visto. Ti rimane il rammarico forse di aver giocato troppo poco quest'anno? Come ho detto l'altra volta no, perché Nordi è Nordi, lo conosciamo tutti e quindi non mi rimane il rammarico, sono felice di avermi fatto trovare pronto quando è stato necessario. A chi dedichi questo esordio? Ma lo dedico alla mia ragazza che sicuramente mi sta sempre dietro, mi dà sempre anche una gran carica e quindi a lei e a un mio caro amico che oggi era in tribuna di nome Luigi e non voglio dire il cognome perché lui piace rimanere un po' così nell'anonimato e quindi a loro. Allora Reggio è arrivato il gollo a Chiusura.